ok ciao a tutti ragazzi scusate se in questo episodio non ci saranno le musiche ma solo nel primo ho preso due reclami quindi ho tolto le musiche del gioco eravamo arrivati alla seconda missione per seus la cia vuole scoprire l'attuale posizione e i piani dell'operatore sovietico noto come par seus avvia questo no ok ok allora andiamo a fare questa qua fracture job se così si pronuncia andiamo ciao bene bella si torna in vietnam ai tempi della prima comparsa di perseus è stato alla fine di gennaio del 68 eravamo una task force congiunta c a sog nel terzo reggimento marine vicino ad anang il sog teneva d'occhio i sovietici pare che nell'area fossero attivi degli aggetti russi per seus non era mai stato segnalato in vietnam la cosa è cambiata ad anna per seus sapeva dell'operazione fra c'è il gioco effetto gioco stato un gioco così ecco la pronuncia abbiamo decollato da campesca scorderò mai quella foglia bene ci servono quei ricordi qualsiasi dettaglio può servire un volto un nome qualunque cosa possa condurci fino a per seus è come cercare un ago in un pagliaio in un campo dei miei forse ma dobbiamo trovarlo ricorda c'era un lavoro da far racconto gioco è stato un vero casino ok armiamoci e partiamo ed ecco un'altra bella giornata nella vita di camp eskins la nostra piccola oasi in questa fogna sperduta mi sei sicuro bacio il braccio ha un male boia ma almeno adesso posso muoverlo andiamo 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 c'è perché non ti fa mai correre quando sono questi filmati qua sims sai che leggendo quella robaccia diventerai cieco sì per questo la voglio tutta qui dentro bell stai con sims lavorate sempre al meglio insieme bravo uno con un pornone c'è un nuovo incarico e l'altro con un pistolone ripcorda una risorsa vitale che charlie vuole a ogni costo di che tipo di risorsa si tratta il tipo di cui non chiedere ripcorda sta subendo gravi danni il nostro compito è prelevare la risorsa e toglierci di mezzo tranquilli per questa missione possiamo contare sul supporto aereo sarà una passeggiata immagino dai cuffia tutti i mezzi a rapporto appena pronti major 9-1 siamo pronti major 9-2 operativi major 9-3 rotori al massimo a tutti i mezzi via libera decollate e partite tutti i mezzi sono in buro siete tutti comodi cazzo Adler perché ho la sensazione che stai per darci brutte notizie ecco qua c'era la musica ma ma non è una brutta notizia anzi potrebbe essere molto buona la risorsa arriva portanto potrà sbettare il corpo ci scaccioni una squadra di fare la metà basta ed è una buona notizia sappiamo che potrebbe esserci un pezzo grosso in città un agente russo noto come Perseus no merda apprezzo l'entusiasmo Sims se fosse vero ci troveremmo davanti a una miniera di informazioni ai tempi della prima comparsa di Perseus si avviciniamo al villaggio ricevuto individuo una zona d'atterraggio ok io sono al mitragliatore eccolo oh sui tetti eccoli lui e te e te no 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 volevo rimanere sull'elicopero è troppo bello andiamo sempre i lavori sporchi ci tocca fare e che cazzo mi vado a rifugiare qui dentro mi becco da qua su si ok andiamo sempre il riverendo nessuno mi riverendo andiamo ora in fondo ora in fondo erano uno dei nostri io mi spalavo vuole che non è morto quindi qua su oh armi voi cosa abbiamo qua un bel pompazza andiamo di pompazza ok andiamo avanti da qua mi sa che lo sta pusta ehi volevi poi dove andiamo da oh dentro 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 minchia me lo son vista brutta minchia me lo son vista brutta ma pulita il pompazzo è il pompazza inutile in movimento cambio posizione ehi ciccio c'è una bella granatina no porca troia ma vieni via da lì se lancia una granata ma pensa te poi ce ne erano due qua in movimento sono esposto adesso non la lancio perché sennò il coglione ci va come cercare un ago in un pagliaio sentito tocca a te bel apri la porta si preveo reno grazie adler confermo i russi sono qui sei sicuro ho qui davanti due corpi che mi sembrano tutt'altro che vietnamiti bel prendi il registro vediamo con chi cazzo hanno parlato e vai missione compiuta abbiamo finito andiamo ben fatto proteggete le informazioni stiamo venendo a prendervi guarda che l'ho guardato non l'ho letto bene riuniamoci alla squadriglia e preleviamo la risorsa si andiamo di pompazza oi ok 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 siamo ancora sotto attacco i vietkong stanno sfondando il perimetro dove siete siamo in arrivo ripcord preparate la risorsa al trasferimento ricevuto 9-1 proteggeremo la risorsa più che possiamo ripcord chiudo ok 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 adesso non so se è finito il capitolo direi di no adesso adesso through adesso grido l'helicottero no bene nessun civile tutti i bersagli sono maliti paralli secchi colpisce le cavalli si, sempre la ridarendo eh penso che si possono usare anche i civili penso vediamo oh 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 e li portano eh infatti ma sti missili lo beccano o no? eh ma caro oh uno è andato sii l'hai beccato ottimo bell se hanno sguinzagliato un hind sono davvero incazzati per le informazioni che abbiamo fregato ehi 20 secondi alla base ripcord ripcord qui badger 9-1 siamo all'avvicinamento finale ricevuto 9-1 andate ancora sotto assedio fate attenzione ehi cazzo ricevuto il report diversi bersagli in superficie allì fuori che sai fare non voglio vi accorgo sulla strada distruggi quei camion di rifornimenti il nemico non deve riarmarsi distrutti tutti mi sembrava che stavo precipitando aveva fatto un rumore strano i ripcord dovete respingere i rinforzi dei get kong prima che ci distruggano attenzione abbiamo diversi al conto del volo sono trincerati tutti intorno alla collina distruggiamo quelle posizioni o possiamo scordarci di atterrare laggiù all'attacco oh ci beccano in un r belongs ripcordco subisce gravi danni distruggi quei bersagli arrivo arrivo av hoped l commitment ok e stai che ci sparo dall'alto oh ok abbiamo fatto un po' di pulizia bene 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 è stato divertente la base è ancora sotto assedio fate attenzione eh la madonna ma andiamo ora buona fortuna comandante non è mica una bomba nucleare quella lì è un piano di riserva non posso dirti altro siamo già così disperati non ancora ecco 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 per favore ecco siamo rimasti vivo e esploso tutto no esploso tutto o no perché sennò sarebbe finita la campagna però siamo lì sì sono il contrario sono il contrario per la cronaca anche se sono il contrario dovrei liberare e brinca si vai prendi un'arma tienili lontani da noi c'è ma da solo devo fare questo no cavolo granata dai ricarica porca troia si prescarico eeeh la madonna si porca troia la mano no eh con una bomba nucleare lì di fianco no almeno non è esplosso niente e soprattutto abbiamo informazioni su Perseus dicevo che avevamo un lavoro da fare non è ancora finito neanche per idea ok missione completata abbiamo concluso il secondo capitolo e come al solito ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao